vediamo insieme come procedere alla bruciatura della teglia in ferro per la focaccia pugliese innanzitutto procuratevi delle teglie in ferro che si presenteranno in questo modo di questo colore grigio scuro prendete un panno carta ungetelo leggermente in olio pochissimo olio e pulite le teglie su tutta la superficie anche nei bordi e nelle scalanature per poter utilizzare le nostre teglie in ferro abbiamo bisogno di procedere con un trattamento che si chiama bruciatura si tratta di una sorta di cottura fra virgolette della teglia vuota in forno in questo modo andremo a renderla antiaderente è bene dire che questa operazione si può fare tranquillamente nel forno di casa senza rischi e senza alcun pericolo nel caso però abbiate un amico che fa il panettiere potete chiedere a lui un aiuto e vi aiuterà sicuramente molto volentieri allora dopo aver pulito le teglie con il panno carta e l'olio per eliminare eventuali residui della lavorazione del ferro le andremo a portare in forno a 180 gradi per circa 30 minuti questo è il primo passaggio che dovremo fare quindi puliamo le teglie con carta sorbente e pochissimo olio in questo caso io ho una teglia grande e tre teglie piccoline e per pulire le teglie sto utilizzando l'olio extravergine di oliva nel caso potreste utilizzare anche l'olio di semi detta anche teglia in ferro blu questa teglia permette una cottura ottimale rendendo focacce e pizze croccanti sotto e ai bordi morbidissime all'interno noterete infatti che nei forni professionali utilizzano queste teglie sia tonde che rettangolari stessa cosa nelle pizzerie e nelle rosticerie infatti a differenza delle classiche teglie in teflon queste in ferro possono arrivare fino a 300 gradi di temperatura quindi le abbiamo messe in forno per 30 minuti a 200 gradi e dovranno risultare così come vedete hanno cambiato il loro colore sono diventate scure a questo punto andiamo di nuovo con un panno carta pulito ad eliminare il residuo della prima cottura e ad ungere uniformemente di nuovo tutta la teglia sia sulla base che sui bordi e nelle scalanature fatta questa operazione portate il forno al massimo della temperatura e quindi 240 250 gradi e passiamo alla vera e propria bruciatura della teglia quindi fatta questa operazione infornate la teglia unita e lasciate in forno per 30 minuti potreste sentire un odore non molto piacevole di olio bruciato e potrebbe esserci anche pochissimo fumo niente paura perché è tutto normale aprite le finestre in pochi minuti non non avvertirete più alcun odore quindi se non doveste aver bisogno di utilizzare il forno nell'immediato lasciate raffreddare completamente le teglie in forno altrimenti le tirate fuori e le lasciate raffreddare completamente a temperatura ambiente io sto approfittando di questi pochi minuti di tempo per potervi spiegare tutto quindi adesso stiamo procedendo alla bruciatura ed ecco qui le teglie appena bruciate a questo punto che cosa facciamo andiamo di nuovo con il panno carta e l'olio e quindi eliminiamo l'olio della bruciatura e andiamo a pulire la teglia a questo punto noterete che sulla teglia si sarà formato una pellicola uniforme su tutta la superficie quindi la nostra teglia risulterà antiaderente se intendete utilizzare subito la teglia non dovrete fare altro se invece dovrete riporre la teglia in dispensa allora dovrete ungere con pochissimo olio e chiudere la teglia in un sacchetto va benissimo un sacchetto di carta per alimenti tipo quelle del pane oppure un sacchetto di tela in seguito una volta utilizzata la teglia per la sua pulizia basterà un panno carta asciutto assolutamente no acqua no detersivi e no spuglie abrasive la teglia non dovrà essere mai 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 lavata con acqua e nel caso in cui pezzi di focaccia o di impasto restassero attaccati questi andranno rimossi con una spatolina in legno o in plastica in modo da non raschiare la teglia cosa fare se inadvertitamente la teglia dovesse entrare in contatto con l'acqua nel caso in cui dovesse accadere la teglia va asciugata immediatamente benissimo con un panno e quindi va fatto asciugare in forno a 180 gradi per 30 minuti e va ripetuta la bruciatura ed ecco qui la nostra teglia bruciata pronta per l'uso per tutte le altre informazioni fate riferimento al link che trovate nel primo commento in evidenza ciao